La destra oggi si è assunta una responsabilità gravissima, negare una risposta a milioni di lavoratori poveri nel nostro paese. La delega al governo significa mandare all'aria ogni possibilità di assicurare un salario minimo e gettare nell'incertezza quei settori come la logistica e i servizi in cui la contrattazione privata la fa da padrone.